Buonasera, grazie a tutte le persone che sono qui, grazie a Palazzo Ducale che per il secondo anno conferma e collabora la realizzazione di Izemau, che è un ciclo di incontri letterari che ha l'obiettivo di dare voce agli scrittori, alle scrittici che si occupano e hanno uno sguardo sulla contemporaneità e benvenuto e grazie a Dario Voltolini che questa sera è qui con noi, il primo dei tre incontri. Con Dario Voltolini questa sera prendiamo un po' le mosse dall'ultimo dei libri che ha pubblicato, che è Invernale, pubblicato per la nave di Teseo, finalista al premio Strega, in realtà non è proprio l'ultimo perché mi hai appena consegnato un libro per Baldini e Castoldi che è uscito oggi, ieri, quindi in realtà questo ora diventa il penultimo però quello che vorrei fare questa sera con Dario Voltolini è occuparmi e occuparci insieme della sua poetica, quindi parlare di letteratura e parlare di come Dario Voltolini interpreta e fa letteratura. Dario è autore di una nutritissima serie di romanzi, racconti, è autore di radiodrammi, testi di canzoni, ti sei occupato anche di libretti per il teatro musicale, sei anche curatore editoriale per una collana, i pennisole, pennisola, pennisole, pennisole sì, una collanina simpatica e invisibile. Sì ho visto però Gilda Policastro, Marta Cai che poi ha pubblicato per Inaudi, Andrea Vitali, quindi... Se vogliamo parlare di quello sono più a mio agio. Immagino, immagino ma magari ci torniamo dopo, ora ti voglio un po' tenere sulle corde qui sulla letteratura e sulla tua poetica. Quindi il mondo di Dario Voltolini e da che cosa vorrei partire? La prendo larga, ma fidatevi che la prendo larga per un motivo. Lo sviluppo e la diffusione della rete ferroviaria, 1850-1860. Nasce un mondo, nasce un immaginario nuovo, spostamenti veloci, panorami che cambiano, che prendono un ritmo diverso, quindi viene scritto il giro del mondo in 80 giorni, viene scritto Anna Karenina dove la stazione e il treno hanno un ruolo importantissimo nel suo amore, nella sua distruzione. L'idiota di Dostoevsky dove l'idiota, il principe Mishkin, arriva attraverso una conoscenza all'interno di una carrozza, di un treno a San Pietroburgo. E poi negli anni 30, non so, l'assassinio sull'Oriente Express, il treno per Istanbul, quindi Agatha Christie, Graham Greene, una letteratura che nasce sul tema del treno e della stazione. E poi c'è Dario Voltolini, c'è Dario Voltolini che, perché io vado a indagare, in uno dei suoi primi libri, forse il tuo primo libro, Un'intuizione metropolitana, 1990, Bollati Boringhieri, scrive, e qui ti voglio Dario, scrive una cosa bellissima, che è, una città, ma quale? È fatta come? Come Marsiglia? Come Tulosa? Come Samarcanda? O Manchester? Come si entra in una città? Col treno. E allora si vedono per primi i subborghi, rarefatti, più densi, più intensi, più accatastati, più impastati. Non ci sono certezze. Forse il treno passa di qui da poco tempo, forse da molto, forse per poco tempo ancora, speriamo per molto. E se si ferma? Succede spesso che prima di arrivare alla stazione centrale il treno si fermi un po' in un posto che stiamo guardando. In quel preciso istante tu non lo sai più che cosa stavate guardando, perché la risposta è che stiamo sempre guardando qualcosa che si muove, o qualcosa che non si muove, ma siamo noi a farlo. Perché il treno, e quindi nella tua poetica il discorso del viaggio, del luogo, dello spazio, il treno è un contenitore dove noi siamo già in un luogo, però è un luogo che si sposta più o meno velocemente attraverso i luoghi. E in invernale tu racconti della parabola esistenziale di tuo papà, della malattia di tuo papà, del lutto che poi vivrai, e a un certo punto c'è il tuo rapporto col treno nel raggiungere l'istituto, e il tuo non rapporto con quel paesaggio perché dici che non lo farai più quel tragitto. E infine, e qui passo la parola, nel tuo ultimo viaggio, sembro un inquirente, alla fine del tuo ultimo viaggio che hai fatto adesso per una residenza d'artista a Kyoto, hai scritto un post dal treno, mentre da Tokyo raggiungevi l'aeroporto, per un paesaggio e qualcosa che ti ha bloccato, quindi che ti ha fissato nella tua memoria, fissato un momento e un sentimento. Quindi io ti chiedo di partire, rispetto alla tua poetica, ai libri che scrivi, a questa connessione, proprio da questo rapporto che hai, con il viaggio, con la stazione, con il treno e con i momenti. Ok, intanto grazie a tutti di essere qua. Per me è un onore essere in un posto simile con la mia amica fuoriclasse, che lascerei parlare sempre, perché ha spiegato già tutto. Io adesso dico, posso dire sì. Esattamente come hai detto. Il treno è interessantissimo, ma per tanti motivi. Intanto, la prendo larga anch'io, nel 94 Alessandro Baricco fece una trasmissione televisiva che si chiamava Pickwick, forse la migliore trasmissione televisiva sui libri che sia mai stata fatta, e nella scenografia aveva voluto una locomotiva. Tutta la sigla riguardava il momento in cui sono arrivati i treni nella nostra vita. Fu uno shock e la gente leggeva per non terrorizzarsi di vedere questo mondo muoversi a una velocità che non era mai stata esperita. Quindi il treno all'inizio è stato una cosa, uno shock. E infatti a Torino, al Museo del Cinema, proiettano il primo film, chiamiamolo così, quello dei fratelli Lumière, dove c'è una camera che riprende l'arrivo di un treno. E pare che le prime volte che le persone vedevano questa cosa si scostassero per timore che questa immagine li mettesse sotto. Quindi il treno è entrato come un treno nella nostra civiltà. Adesso non fa più così paura, quindi non si legge in treno perché si ha paura di guardare fuori dal finestrino, ma anzi, per parlare della mia poetica, chiamiamola così, premetto che io non sono tanto uno scrittore di trame, però mi piace anche spostarmi da A a B nel racconto. E un giorno un mio amico barista mi ha detto, ma secondo me tu scrivi come uno che guarda dal finestrino, e quindi passano delle cose, e passano perché tu ci passi dentro, perché ci sia un collegamento. È chiaro che il paesaggio è tutto collegato, però l'immagine di guardare un finestrino come se fosse un televisore, e vedere passare delle cose mi colpisce molto, mi piace molto. E spesso mi sembra che scrivo così, cioè vado da un posto all'altro e aggiungendo immagini, forse questo è il mio tipo di poetica, diciamo, di narrazione. Non tanto la trama complessa, io conosco narratori di trama e so che ragionano in una maniera tale per cui qualunque fatto o azione che vedono è già nella loro mente un nesso causale, con delle implicazioni, perché la ragionano così. Io più da idiota vedo passare, e come un bambino rimango incantato dal passaggio delle figure. Quindi il treno l'hai presa giusta perché è proprio così il fascino di essere fermo ma in movimento, di passare attraverso una cosa che è ferma ma poi in realtà si muove perché tu ci stai passando dentro. Questo gioco per me ha molto a che fare con la scrittura, o quantomeno con la mia scrittura. Per cui tu che sei un genio dell'indagine sei andato addirittura a trovare la prima frase del primo libro, che io non mi ricordavo che fosse così, ed è l'ingresso in una città, meglio ancora se non la tua, con il treno. Tra l'altro mi ricordo, questo è un dato personale, io sono stato, sono arrivato una volta a New York in aereo, e con tutta la sufficienza che abbiamo noi di dire, vabbè New York è la città più iconica del mondo, è come se la conoscessimo già, era invece la prima volta che per me è lì, e quindi facevo il gradasso, e tutti abbiamo in mente come New York. E l'aereo continuava a scendere, però scendeva in mezzo ai palazzi, quindi quella cosa lì intanto mi ha già fatto un po' smottare questa sufficienza. Ma in realtà il vero colpo al cuore l'ho avuto quando sono tornato a New York da Yale, dove ero andato a trovare degli amici, in treno. E allora c'era questo treno che è partito normalmente da Yale, poi ha cominciato a passare in quei soborghi che anche lì sono molto iconici, quei soborghi sventrati, dati alle fiamme, con i materassi incendiati per l'assicurazione, quelle cose proprio di scenario periferico urbano che si è depositato nel nostro immaginario. Poi il treno si è inabissato nel buio, e tra l'altro faceva degli scossoni e toccava i lati, non so perché, non so se avevo preso male le misure, ma c'erano degli scintille, c'era una scintilla di qua, una scintilla di là, quindi ero già abbastanza impressionato, in più andavo sottoterra. Comunque sono arrivato alla Grand Central, esco e lì, uscendo dalla stazione, il grattacielo, che è una cosa che uno pensa con sufficienza, mi aveva veramente impressionato perché mi sembrava di essere nelle donomiti della famiglia paterna, perché erano delle cose artificiali, ma anche impressionantemente naturali questi colossi. Quindi devo dire che tra un arrivo in aereo scioccante e un arrivo in treno altrettanto scioccante, io in me conservo di più questo arrivo in treno. Per cui il treno l'hai breccata giusta, e in questo ultimo libro, dove racconto gli ultimi anni di vita di mio padre, che ha avuto una malattia per la quale doveva andare a curarsi in Francia, e una persona che era sempre stata a Torino, cioè limitata nella nostra città, questa geografia interiore si è a un certo punto addizionata a questo appendice che era il viaggio della cura, il viaggio della speranza, il viaggio doloroso ma necessario, che si faceva in treno e si andava a Parigi. Molte volte sono andato anch'io con lui e con mia madre, insomma i luoghi che si passano, la campagna francese eccetera eccetera, sono anche interessanti, ma il punto è che quando si arriva ai soborghi di Parigi, poi alle volte da lì facevo dei viaggi a Parigi con pullman, metro e altre cose, e insomma lo scenario si è configurato su quella direttrice. C'era un paese che si chiamava Kremlin-Bissetre, un soborgo di Parigi, col nome strano Kremlin-Bissetre, e io sempre ho avuto la curiosità di andarlo a vedere, ma non ci sono mai andato. Quando ero là per motivi di salute di mio padre non ci andavo perché c'era altro da fare, e dopodiché me lo tengo nel ricordo, ma tutte le altre volte che sono andato là ho sempre evitato, non so perché, di passare a Kremlin-Bissetre, per cui Kremlin-Bissetre è un posto che andando verso Parigi sta sulla sinistra del mezzo di locomozione che scelgo, e quando torno da Parigi sta alla destra. Questo è un nome che mi incuriosisce, una localizzazione meramente destra-sinistra a seconda della direzione in cui vado. Per cui l'hai presa alla larga, però è centrato. Ah beh, sì, poi addirittura si è andata a scartabellare nel mio Facebook, eh già, perché sono tornato di recente da Kyoto, e per via che mia figlia ha studiato in Giappone, mi è capitato di andare più volte in Giappone, a Tokyo, questa volta a Kyoto, e tutte le volte che uno prende il treno, che io prendo il treno per andare all'aeroporto, la scena che si vede è praticamente sempre la stessa, non importa se parti da Kyoto, cioè case basse, grigie, anche abbastanza umili, però misteriosamente con un'anima giapponese fortissima. E quindi io incollo il cellulare al vetro, faccio dieci, undici secondi di registrazione e poi lo distribuisco ed è arrivato fino a te. Ma è perché c'è una specie di anima del luogo che non ha niente a che fare con tutte le bellezze che ha il luogo, cioè il Giappone non è conosciuto per le periferie anonime, ha talmente tante altre cose, però rispetto a una pagoda, un tempio, un sushi, una stranezza, una musica, o altre cose che ovviamente ci sono, io quando torno mi sento colpito profondamente da questa umilissima scena di passaggio dentro periferie del tutto, appunto, umili e anonime. Non so perché, perché sono tutte simili quelle giapponesi, ma sono tutte diverse da quelle altre europee. Non chiedermi perché. Forse perché so che sono in Giappone. No, perché non te lo chiedo. Però noto e annoto. Torino, Francia, geografia interiore, scenario, incollo il cellulare al vetro, che poi incollare il cellulare al vetro è un modo per incollare comunque lo sguardo, no? Cioè prima incolli lo sguardo al vetro e poi il cellulare, perché siamo nel 2024, però quello che tu fai è incollare lo sguardo, anima del luogo, periferie. Ecco, e tu prima dici la mia poetica, chiamiamola così. Sì, chiamiamola così, perché quello che si riconosce in autori, scrittori che fanno letteratura è proprio che hanno uno sguardo, una sensibilità sulle cose che non è che è riconoscibile nel senso che è scontata. È riconoscibile nel senso che ha una forza, una linea e una potenza che si sente. E in questo libro si sente la tua poetica in questa direzione. Si sente che hai qualcosa da dire, si sente che hai la possibilità, la necessità, il bisogno di condividere qualcosa di intimo e lo fai con un grande pudore e una grande eleganza. E quello che mi interessa e che vorrei condividere con le persone che sono qui è proprio questo tipo di mappatura che tu fai, la mappatura geografica degli spazi, dei luoghi e che la colleghi in una maniera inestricabile a quello che è il tuo campo di memoria, la tua intimità, il tuo ricordo, la tua soggettività rispetto a quei luoghi. Qualcuno ha scritto che Dario Voltolini verbalizza il legame tra luoghi e soggettività, che è una cosa molto vera. Cioè tu riesci a dare voce a questa unione tra quello che è stato il tuo momento personale, intimo, privato e il contesto, l'altro, il circostante, che in quel momento ti accoglieva. Facendo un passo indietro sempre, e andando al 2017, quando tu pubblichi per Inaudi Pacific Palisades, inizi così. L'ho trascritta, potrebbe essere, credo sia corretto, l'incipit del libro. Il 2 giugno del 2015, festa della Repubblica Italiana, e giorno in cui, nel 1932, nacque mio padre, Piazza Pitagora, a Torino, dopo il tramonto, era satura del profumo dei Tigli. Ora, quando parlo di poetica, parlo proprio di questa congiunzione che poi c'è tra Pacific Palisades e Invernale, dove la figura del padre è centrale, dove questo è soggettivo, io ho trovato una sorta di continuità tra i due libri, una congiunzione tra i due libri, e dove questo proprio è il taglio letterario di Dario Voltolini. Lui scrive due tempi diversi, lui parla del 2015 e del 1932, quindi ci mette già in una situazione cronologica che è separata, divisa, lontana. Poi parla dello stesso luogo in due momenti diversi, e non un luogo a caso. C'è una città, che è Torino, che ritorna sempre, e c'è una piazza, che è Piazza Pitagora, quindi ci mette in un posto definito e preciso in due momenti storici diversi, e poi ci dice che c'è un tramonto, e quindi ci apre dei colori, e attenzione, su questo ci ritorniamo, non ci dice un tramonto infuocato, perché non c'è bisogno di scrivere che il tramonto è infuocato, perché nel momento in cui ci dici che è un tramonto, noi lettori vediamo già del colore, e questo riguarda il discorso stilistico e formale della scrittura, che fa la differenza tra chi fa letteratura e chi non fa letteratura, qua mi sono spinta, e era satura del profumo dei tigli, quindi ci dà anche un altro aspetto, anche un altro senso, quello del profumo, quello di qualcosa che avvolge quel pomeriggio. Quindi il tempo che torna qua in invernale, saremo nella metà degli anni 70, e anche qua avremo dei luoghi, avremo Torino, avremo Parigi, avremo Genova, abbiamo il mercato dove tuo padre lavora, ma poi abbiamo la casa, l'istituto dove si cura, e anche in questo libro, come nell'Incipit di Pacific Palisades, tu riesci a dare questa idea di tempo che in alcuni momenti ha un ritmo preciso, la parabola della vita e della malattia di tuo papà, che tu dari, osservi, vivi, scandagli, cerchi di capire, e però anche dei momenti di sospensione tra i due tempi, in cui c'è la riflessione interiore, e quindi tutto si calma, si placa, si sospende. Quindi in questo senso parlavo di intimità del libro, e quando tu dici io non sono uno scrittore di trame, perché la trama è lineare, è chiara, ma poi tu la sospendi in questo momento in cui vai giù, vai nel profondo, dove parli di qualcosa, e c'è una certa furia anche nel modo in cui tu ne vuoi parlare, però è una furia che è contenuta, resta comunque nella grazia della tua scrittura e nella grazia del pudore con cui tu la condividi con i lettori. Accidenti. Allora, forse fare una distinzione, cioè all'inizio per parlare di poetica, uno pensa che sia tutto sotto il controllo di chi scrive, che produce, che alimenta, che fa crescere di volta in volta la propria poetica, e in parte ovviamente è così, però c'è anche tanto di, come dire, ma non dico di inconsapevole, ma di capacità di cogliere delle cose imprevedibili che capitano, e poi a distanza di tempo, allineando il libro per il libro, poi arriva una lettrice come te, e allora ti fa delle notazioni, e dici ma forse sì, effettivamente io in qualche maniera scrivo così, ma è come se io lo scoprissi di me quando me lo si dice, e quindi non pensate che io sia quello che ha la poetica del luogo, e quindi faccio il luogo, a me viene così in qualche maniera distinto, e proprio parlando del primordio, prima ancora che io cominciassi a scrivere, io poi ci ho riflettuto ovviamente dopo, perché uno riflette su cosa fa, ma se devo andare a prima, quando mi si chiede come mai scrivi, le ragioni per cui scrivi, che sono sempre molteplici e spesso misteriose, una che mi viene in mente, e non mi sarebbe venuta in mente se non me l'avessero chiesto, è che io patisco se trovo una cosa che vedo, e non posso condividerla, se vedo una cosa bella, o anche interessante semplicemente, e sono da solo, mi sento che c'è qualcosa che non va, ho bisogno di avere una persona, alla quale rompere le scatole, dicendo ma lo vedi, ma lo vedi, certo che lo vede, però questa triangolazione, fra la cosa che colpisce me, e dirlo a un'altra persona, se non c'è, mi manca, e nello scritto probabilmente è così, nel senso che i luoghi, i luoghi sono una cosa impressionante da questo punto di vista, se vedo la mia produzione, perché il mio primo libro, che tu sei andato a trovare, non è neanche un libro di racconti, è un libro di descrizioni di luoghi urbani, cioè proprio avevo la fissazione di mettere sulla pagina, come certi pittori hanno saputo fare, e io che non so dipingere, ho sentito la mancanza di non saperlo fare, delle scene periferiche della mia città, di altre città, io da bambino mi esaltavo quando guardavo sull'enciclopedia, senza sapere niente, da ignorante puro, i dipinti di Sironi delle periferie urbane, vedevo che c'era qualcosa che dipinto tanti anni prima e mi diceva delle cose sulla città mia, che vedevo quando ci passavo dentro, e questa cosa qui mi ha messo in moto una specie di desiderio di fare altrettanto con l'unica arte, tra virgolette, che possiedo, che purtroppo non è la pittura, ma è la scrittura, delle cose così, quindi sono dei quadretti, non sono neanche dei racconti, cioè la non trama va addirittura a fare delle descrizioni, dei capitoli che sono descrittivi, e qui una intuizione metropolitana, avevo scelto quel tipo di paesaggio lì, ma sono paesaggi, sono luoghi, e poi riflettendo sul paesaggio, è vero, io proprio nella vita, ma penso che capiti a tutti, se passo in un posto dove un tempo in cui ce l'ho passato prima ero denso di un'emozione, o ero con una persona, mi viene in mente immediatamente quell'emozione, e quindi ci sono dei posti che per me non possono essere neutri, o sono nuovi, e quindi c'è lo shock del nuovo, oppure sono posti che sono carichi di emozioni che ho provato essendo lì, passandoci lì, e quindi l'emozione può essere bellissima, e il posto è squallido, quindi ci sono delle cose che, oppure un posto bellissimo e tu stavi soffrendo, per cui è tutto emulsionato insieme, il ricordo di un'emozione che non mi sarebbe venuto in mente se non passavo di lì, magari per andare da casa in un certo posto faccio una traiettoria e passo in un luogo che mi fa venire in mente una giornata felice, se passavo da un'altra parte passavo in un luogo che mi faceva venire in mente una giornata triste, per cui è come se avessi un hard disk di emozioni disseminato nei luoghi e che quando passo di lì mi ritorno, non è come una memoria, a questo punto non so neanche se è volontaria o involontaria, è una mescolanza delle due, e qui poi naturalmente in quest'ultimo ci sono i luoghi importanti e il principale io penso che sia il posto dove mio padre lavorava, mio padre faceva l'agnellaio, vendeva agnelli, polli e conigli in un mercato di Torino molto grande che si chiama Porta Palazzo insieme con tutti gli altri commercianti, quindi era una situazione mercatale dove anche se a Torino c'erano urla e rumori, casino eccetera e io mi ricordo che andavo a trovare papà da bambino e andavo dall'altra parte del banco dove vedevo delle cose che mi impressionavano perché vedevo il lavoro del macellaio da dentro, poi l'ho anche aiutato in certi momenti per cui ho pensato, io voglio, ho pensato, ho cominciato così, ho detto mettiamo la prima scena, diamo al lettore un ingresso principale nel luogo dove mio padre era il padrone assoluto, il padrone assoluto era nel negozio di macelleria in questo mercato e ho cercato di dare il più possibile il senso, il ritmo, il suono e la visione di questa attività in movimento perché il mercato è molto dinamico come situazione e quindi quello è di nuovo un luogo, io anche passando nello stesso mercato adesso dopo tanti anni la scena qua che io racconto si riferisce a più di 40 anni fa quando passo magari non c'è nessuno e semi deserto per me sentire e ricordare quei rumori è tutt'uno è come se avessi come se io proiettassi con un mio faro delle scene degli anni settanta in un posto che non è più quello è un'esperienza mia personale che credo che sia quella che va a finire che io vorrei che finisse nella pagina e quindi l'inizio di questo libro che parla di mio padre sostanzialmente volevo che cominciasse nel posto dove lui era sano in salute lavorava era una macchina come tutti gli altri una macchina lavorativa impressionante precisa nella velocità delle azioni c'era una specie di precisione da orologiaio di tutti e ho accolto l'occasione di aver visto questa macchina da dietro il bancone per poter dire delle cose che il semplice cliente non può perché io vado a comprare ci sto mezz'ora al massimo a comprare una cosa in un negozio starci tutto il giorno per tutta la settimana ti dà una dimensione prospettica di che tipo di lavoro è che non è solo io ti vendo una cosa tu me la compri e te ne vai perché è molto più complessa e ho detto beh siccome ho avuto l'esperienza di vederla buttiamola dentro la scrittura quindi ho cominciato con questa scena del sabato del mercato sostanzialmente si che si alterna questa scena diciamo molto chiara precisa che ha una collocazione temporale metà degli anni settanta e anche spaziale il mercato porta palazzo si alterna però a quei momenti in cui invece ti sospendi in un tentativo di un Dario che è un ragazzino d'adolescente che sta vivendo questo percorso complesso questo dramma che forse non è ancora un dramma ma potrebbe diventarlo e in quei momenti invece tu riesci a sospendere però questa tipologia di descrizione alterni nella tua scrittura e nel tuo libro questi momenti chiari a questi momenti di sospensione riflessiva mi viene in mente quando guardi i tuoi genitori seduti nella stanza per esempio cambi il ritmo del libro c'è una componente tra virgolette ritmico musicale nei libri perché intanto le parole suonano e noi scrivendo in italiano abbiamo comunque una lingua che ha dei suoni che quindi a me piace sfruttare perché no è ricchissima ha gadetta di stranieri poi ci sono i ritmi poi uno che fa questo lavoro ha una specie di intuito quando parlare dell'azione quando discostarsi fare una piccola descrizione è un intuito è una specie di istinto animalesco non è che sia tanto razionale a un certo punto senti che se tu stacchi un attimo quando riprendi è più è meglio sta più insieme la situazione in particolare questo libro qui che è nella mia produzione molto particolare perché affronta un punto autobiografico molto intenso importante e soprattutto doloroso e di crisi e lo fa 40 anni dopo gli eventi è capitato in questo libro che molti mi hanno chiesto ma come ci ha messo 40 anni a scrivere questa cosa sì e no nel senso che per 40 anni io non ci ho mai pensato a scrivere questo libro poi due anni fa è capitato che vedo che è il quarantennale della morte di mio padre e stavo pensando a scrivere non sapevo quale di altri due libri scrivere ho detto ma aspetta facciamo una specie di celebrazione una festa di quarantennale di mio padre e mi sono messo per la prima volta a pensare di scrivere direttamente quell'esperienza che nei 40 anni si era cristallizzata sono 5-6 anni di vita ma per me era un blocco unico un affresco già stabilito a cui ho pensato ricorrentemente per tutti gli anni della mia vita per tutti i mesi ed era sempre stato così per cui gran parte del lavoro era stato fatto nell'immaginazione la storia da raccontare comunque mi sono detto visto che c'è questo aspetto un po' rituale mi sono dato dei tempi cosa che io anche quando faccio cerco di non farlo mai poi io li sforo perché da un lato sono pigro dall'altro mi riduco all'ultimo le consegne le salto le buco però questa me l'ero data da me e mi sono detto cominciamo quindi a scrivere questo libro il giorno del compleanno e finiamolo il giorno della morte che è capitato che fosse il 2 giugno e il 24 luglio per cui questo libro l'ho scritto in meno di due mesi mi rendo conto che può sembrare strano che un libro scritto in questa maniera qua abbia preso poco tempo perché se lo si pensa come una cosa ragionata è stranissimo se invece la si pensa come un'improvvisazione jazz allora quando mi sono dato quel A e B e ho finito il 24 allora ha già più senso perché per così dire quello che fa il solista che improvvisa un brano nel jazz allora intanto si deve fidare di controllare in qualche maniera lo strumento poi agli altri che lo tengono insieme perché il ritmo glielo dà glielo dà insomma ci sono gli altri compagni però comunque quando comincia sa che finirà alla fine non è che può fare un attimo di sospensione no non è in studio cioè il dal vivo non è in studio quindi io ho scritto questo libro tra virgolette dal vivo e anche come editing ce n'è stato poco da fare qualche ripetizione eccetera eccetera ma se io penso che a un libro così ragionato a tavolino non l'avrei mai finito quindi ho dovuto fidarmi di buttarmi in acqua e arrivare dall'altra parte e così è stato no e la metafora musicale ha senso perché tu dici prima c'è una scena dinamica in cui sono lì poi dopo c'è una riflessione eccetera eccetera sì perché io racconto questi anni che sono di vita non sono anni di malattia sono anni importanti anche di sfaccettatura che mio padre ha espresso come personalità rispetto a quando era semplicemente una macchina da macelleria no e però lui era abbastanza riservato non ha mai parlato di come si sentisse durante la malattia si vedeva come stava ma non abbiamo mai parlato tanto di questo e quindi io certe volte qua mi sottrago un po' alla descrizione delle scene perché è come se volessi dire cosa secondo me pensava o vedeva o sentiva mescolato quello che sentivo io e sentivano tutti per cui è mobile lo scenario perché i fatti sono tutti veri se mi chiedono se è autobiografico e se è realistico sì i fatti sono questi le date sono quelle i luoghi sono quelli le persone si chiamano così mio padre si chiamava Gino e dentro si chiama Gino nel libro io mi chiamo Dario e nel libro è Dario e così tutti quanti però poi ci sono delle cose che io mi chiedevo ma cosa cosa proverà cosa starà pensando mio padre e nel frattempo negli anni mi sono fatto dell'ipotesi che gli ho messo nella pagina quindi è tutto un po' complesso come testo però secondo me sta insieme perché ho deciso di farlo in poco tempo perché lì ho lavato la spacca e poi devo dire una cosa che posso raccontare a voi che siete qua che non si può capire dal libro allora c'eravamo io e la figura di mio padre in contatto diciamo letterario o comunque professionale ma c'era anche una terza persona di famiglia che era mia figlia che il nonno non l'ha mai conosciuto e alla quale alla sera di ogni giorno mandavo il file come presentazione del nonno lui mi chiedeva ma com'era il nonno e io dicevo ma sarei piaciuto al nonno sì molto ma cosa avrebbe detto il nonno adesso il nonno te lo racconto di giorno in giorno e quindi in realtà è un dialogo a tre forse quando dicevo prima che mi dispiace non condividere una cosa che vedo che sento e mi dispiace se non c'è un altro che la condivida con me io ho utilizzato diciamo brutalmente mia figlia per questo quindi no brutalmente no però vedi tu raccontandoci queste cose condividendo con noi queste cose poi in realtà metti a fuoco e ci dai la possibilità di capire che cosa vuol dire no una poetica perché sembra una parola un po' tecnica ma in realtà poi di fatto significa lo sguardo che un artista ha sul mondo sulla sua vita sulla vita degli altri su quello che lo circonda e quindi questo è molto bello però c'è anche un c'è anche un aspetto che vorrei approfondire con te per non dare nulla per scontato ovvero tu giustamente dici il libro l'ho scritto come un'improvvisazione di jazz però dici anche che lo strumento deve funzionare no e poi dici anche che forse questo libro in realtà in qualche modo lo avevi già dentro aspettava il momento l'occasione il tempo giusto per essere per prendere luce per prendere vita riguardo lo strumento noi potremmo perché detto così si potrebbe pensare scioccamente che chiunque abbia una cosa da esternare un momento da condividere prendere una penna quindi uno strumento e scrivere il libro che hai scritto tu ma questo strumento che tu maneggi questo stile la forma che è importante quanto la trama il contenuto insomma delle opere letterarie è un qualcosa che non arriva a caso è un qualcosa che certo uno può essere toccato dalla grazia dello stile e essere inarrivabile senza fare nessuno sforzo oppure uno può anche lavorare sullo stile capire che cosa è lo stile lavorare sulla propria forma e sul modo in cui vuole scrivere i libri e io e te prima parlavamo proprio del fatto che mentre hai scritto il libro precedente per la nave di Teseo Giardino dei Ciliegi degli aranci degli aranci magari ti ho proprio oggi sei veramente hai lavorato molto sull'aggettivo hai volutamente lavorato sugli aggettivi cioè quindi sul caricare la forma tua di aggettivazione su questo libro che in qualche modo ha una sua vena poetica hai lavorato anche tanto sulla sottrazione per rispettare il ritmo per cercare di non attribuire già un'idea troppo personale soggettiva a qualcosa che volevi raccontare che volevi che rimanesse in qualche modo all'appannaggio del lettore quindi c'è anche c'è tanto in una riuscita di un libro a questo livello il lavoro che poi ti sia venuto istintivamente perché ora è anche tanto io penso di aver capito sì sono certa la mia ritrosia a parlare di questo riguarda il fatto che avrei tante cose da dire non solo su di me ma anche su tutti quelli che leggo e apprezzo e con i quali magari in maniera da colleghi a volte si parla ma temo che possa annoiare la gente quindi cercherò di essere allora intanto come dicevo prima la scrittura è l'unica forma di espressione in cui io nella vita mi sia trovato un po' creativo nei miei studi non lo è ho detto filosofia ma non ero un filosofo creativo mi piaceva disegnare dipingere ma in terza media il professore mi ha detto non farlo mai più quindi mi ha fatto capire che non era quello non so leggere la musica non so suonare nessuno strumento ma invece con la scrittura mi rendo conto che già da bambino piccolo io leggevo il dizionario come fosse un libro e quando c'erano delle parole che strane che non avevo mai sentito cioè quasi tutte ovviamente ma quelle proprio stranissime io poi le mettevo appena potevo nel pensierino che chiedevano di fare in classe per cui bambini cosa avete fatto domenica scorsa e io scrivo domenica scorsa sono andato a visitare un edificio luteo e fatiscente perché sembrava un genio ma è perché il giorno prima avevo guardato c'è luteo che cos'è luteo è il colore del tuorlo d'uovo fatiscente lo sapete e allora un bambino che dice quello intanto come passa la domenica ma vabbè però ero mi divertivo quindi poi i temi con la scrittura non ho mai avuto i problemi che ho avuto con altri mezzi espressivi per cui ho buttato tutto lì dentro e questo forse è già una premessa stilistica perché c'è la parola che non conosci che tu subito cerchi di utilizzare perché c'è un amore un interesse un'attrazione nei confronti delle parole della tua lingua che poi è bello anche adesso ancora adesso io mi esalto quando leggo una parola che non conosco in un libro che mi entusiasmo quindi quello era già un po' un segnale d'allarme diciamo di psichico ma comunque è andata così è venuta in mente un'altra cosa da dire su questo sì lo strumento va conosciuto lo strumento io io non penso di avere una grandissima capacità di scrittura però penso che in questo libro qua io mi sono fidato di poter arrivare fino in fondo con quello strumento che nel frattempo avevo collaudato in tutti gli altri libri io sono tutti imperfetti io quando guardo una cosa mi rendo conto che avrei voluto fare quello e ci sono arrivato vicino ma non quindi c'è un continuo ripensamento come uno lavora qui sono detto vabbè tanto più di così la lingua non è che devi imparare delle cose che non sai più fallo e sono andato avanti così la lingua è una cosa però particolarmente strana perché tu non puoi controllare cosa capita nella mente di un lettore quando legge una frase che tu hai fatto però la fai perché vada dentro la mente di un lettore per cui è veramente un lavoro molto curioso molto a pensarci anche abissale a volte come insicurezza che ti può venire però forse la vena ludica poi alla fine la vince sul timore di non riuscire a farcela perché se c'hai qualcosa che ti rimane di fanciullesco dentro di provare comunque a vedere come va e alla fine te la cavi io però non so dire altro su che cos'è lo stile in particolare mio siccome mi capita mi è capitato di insegnare nelle scuole di scrittura eccetera eccetera io sento molte formule che vengono dette con nessuna delle quali io mi sento a mio agio a un certo punto spesso si spara dello stile come si fa a raggiungere uno stile e io mi sento molto male di fronte a questa domanda perché lo stile da un lato è un po' come il nostro accento il nostro timbro di voce la nostra configurazione del polpastrello per l'impronte digitale cioè a un certo punto lo stile tu ce l'hai è quello che ti caratterizza come persona magari non averlo essere più no noi siamo determinati come individui da tante caratteristiche che abbiamo solo noi secondo me è quello lì lo stile casomai uno lavora sulla scrittura per evitare di fare sempre le cose col proprio stile quindi forse c'è stile 1 che è la dotazione naturale a me piacciono gli oggettivi e metto gli aggettivi stile 2 che dicono senti adesso però anche basta no guarda quell'altro e tu ti conformi e lavori su te stesso in questa maniera qua però naturalmente parentesi quando come tu mi hai detto che farai porterei in giro delle letture ci sono degli scrittori il cui stile è la cui grana il cui suono della pace anche se tradotti e questa è la cosa incredibile hanno qualcosa di miracoloso tu mi dicevi che farei delle letture di Sebald Sebald è uno scrittore che a me mi impressiona io non so il tedesco e neanche l'inglese ha da leggere quando lui ha scritto direttamente in inglese in traduzione italiana quell'uomo lì riesce a fare delle cose che sono ammalianti cioè lui non sa neanche probabilmente non conosceva neanche l'italiano per cui talmente potente la personalità dello scrittore che diventa uno stile che diventa una cosa che trapassa anche la traduzione e quello è così e poi ne leggerai altri che sono stili diversi ma a questo punto abbiamo tutti amici che sono diversi uno dall'altro quindi forse si fa un cerchio e alla fine il tuo stile è che riesci ad essere abbastanza te stesso abbastanza te stesso non imiti non imiti delle altre scritture benché persino Proust abbia fatto tanta scuola guida imitando scritture altrui poi lui era Proust per cui era indistinguibile come Crozza quando fa Feltri che non sai più se è Feltri o Crozza quindi era grandioso nell'imitazione per cui il discorso sullo stile è bello farlo però è molto complicato io penso di spero di averne comunque uno piacevole ma vi racconto l'aneddoto per esempio io conosco da prima che scrivessimo entrambi il notorio Alessandro Baricco che che un giorno mi fa ho scritto questo libro dove è come se non è importante chi lo ha scritto è importante la storia è come se l'autore proprio venisse cancellato io guardavo era baricchitudine pura dico ma tu ma se io prendo una mezza pagina ma addirittura in verticale senza senso e lo do a chi uca e dice beh è baricco quindi è strano anche l'autoconsapevolezza che uno ha è veramente una cosa strana e secondo me poi lo stile ce l'abbiamo tutti perché basta vedere come prendete gli appunti se dovete scrivere un numero di telefono cioè è la vostra marca di fab il vostro marchio di fabbrica quando diventa una cosa su cui lavori allora certo che però ti appoggi sopra non è che non c'è nulla e poi tu lo raggiungi secondo me non è che sei tabula rasa e a forza di lavorare raggiungi il tuo stile hai una dotazione sì il più delle volte sgangherata e cerchi disperatamente di farla stare in piedi questo è il lavoro di affinarla di affinarla sì sì adesso cerco di non dire tutte le volte luteo anche perché però però la chiave è lì secondo me non tutti arrivano a questa consapevolezza che sembra banale che se impari una parola non la devi usare 180 milioni di volte abbiamo capito che la sai cioè è questo che io dico quando parlo anche di stile no? prima voi lo sapete cos'è un ciropeduncolo? alzi la mano chissà cos'è il ciropeduncolo e il ciropeduncolo è la parte terminale dei lacci delle scarpe dove c'è quella robina che la tiene di ciro allora prima parlavo con Ilaria di un nostro amico che quando spiega la precisione lessicale terrorizza i suoi studenti con ciropeduncolo tungsteno no? e lì siamo a livelli di perversione però insomma però quello di cui parlavamo è proprio la differenza tra chi è attento alla conoscenza e alla precisione lessicale ma non ne costruisce un'artefazione cioè qualcosa di stucchevole cioè conoscere le cose anche con precisione ma usarle quando è il momento quando è il caso ed è questo l'equilibrio che che secondo me fa sì che alcuni libri siano particolarmente letterari e particolarmente poetici perché non c'è bisogno di mancarlo quel quel punto no? quel punto in cui va bene così cioè sapersi frenare cioè lavorare anche per sottrazione cioè non voler necessariamente far vedere tutto quello che si conosce c'è è dentro le cose e e questo in un libro come Invernale ma secondo me anche in Pacific Palisades che era molto bello si vede si percepisce che non si va mai oltre quando quando si parla di letteratura ma poi comunque noi io e Dario prima parlavamo di questo discorso ogni libro ha la sua dignità e ha il suo diritto di esistere essere pubblicato essere letto piacere o non piacere noi non entriamo nel merito di questo tipo di giudizio però ci interessa vedere come una cosa un aspetto un aneddoto una storia viene raccontata può essere raccontata in modo diretto chiaro io devo dire e adesso ti faccio leggere con le tue righe io devo raccontare come fa Dario che mio padre si è ammalato c'è stato un incidente non si sa se quell'incidente è la causa diretta o una causa scatenante e riflette su quello in maniera profonda come dici tu è bello nel libro perché si percepisce proprio quando tu racconti quello che vedi e quando invece ti stacchi da quello che vedi e racconti quello che tu hai provato a capire quello a cui tu hai provato a dare un senso ma non sei sicuro che sia andata così perché non hai la controprova non hai parlato non hai condiviso con tuo papà questo percorso quindi è un'intimità tua è un'ipotesi è un'ipotesi tua questo cambio di ritmo e di prospettiva si sente molto nel libro e puoi dire che tuo padre è stanco perché si sta ammalando oppure e lo dici così mio padre era malato si è ammalato ed era più stanco e lavorava peggio oppure lo puoi dire così il tempo passa il tempo passa ecco che il ceppo che sta lì da anni è più difficile da raggiungere i coltelli per disossare hanno lame che tagliano meno quelle dei coltelli per sezionare macellare hanno un tentennamento all'attacco nelle impugnature i vetri passati con lo straccio sulle schiume dello sgrassatore spray ritengono una bava di ridescenza che evapora con fatica e non con la sveltezza che il pulito conferisce a tutte le cose la ganciera trema un po' quando la si sollecita con il peso eccetera eccetera mi rendo conto che il percorso è complesso ma anche rapido come viene fuori questa stanchezza che peraltro è ipotetica perché a un osservatore esterno per lunghi anni mio padre è sembrato lo stesso lavoratore di prima però forse un'esitazione una cosa che un coltello che fa un certo gioco con il manico il ceppo che raggiungevi con un balzo adesso devi fare due passi il vetro che tutte cose che fanno parte del lavoro come io l'ho visto cioè alla sera bisogna pulire il vetro in modo tale che il giorno dopo fosse imbacolato e quindi i grandi sgrassatori eccetera eccetera però è come se fino a un certo punto nella piena salute passavi andavi tornavi a casa era tutto lindo e dopo invece questo gesto lasciava un alone è una visione che io ho prelevato evidentemente dall'esperienza ma che secondo me dava un po' il senso sia della fatica ma anche di quello che quella fatica lì secondo me ha comportato nella vicenda di mio padre una maggiore attenzione a quello che stava facendo perché se tu è anche nell'invecchiamento c'è questo una delle cose più belle che ha scritto che ha detto il cantante De Gregori ha detto che per l'invecchiamento dice ma io sono vecchio però sono anziano per me è tutto come prima tranne che se mi cadono le chiavi devo fare attenzione a cosa faccio e c'è questa questa dilazione che mi è sembrato che venisse a taglio nel racconto della vita quotidiana di tenere insieme un esercizio commerciale perché tante cose cioè tenere pulito pensarci eccetera questo questo era quello che quello a cui tenevo di più cioè volevo condividere con le persone che erano qua con noi oggi alcune avranno già letto il libro alcune non ancora magari qualcuno ha letto una recensione però quello che volevo condividere questa sera con Dario e con voi era proprio questo aspetto questo aspetto della letteratura che si muove su più livelli e può essere osservata studiata analizzata da più punti di vista non c'è solo la trama può esserci anche la trama può esserci anche solo trama sì sì quindi no ma è sì è veramente difficile quando uno trova una formula per dire questa cosa qui fatta bene una formula contraria può individuare opere contrarie fatte altrettanto bene quindi è veramente come diceva il mio amico Canobbio tanti anni fa e la letteratura è precisa come la matematica però le variabili sono infinite per cui non sapevo fare il calcolo è bella questa idea di una precisione che non controlli perché è troppa troppa la complessità e quindi andiamo avanti brancolando nel buio andiamo avanti brancolando nel buio ma poi anche ogni tanto cercando di dare qualche coordinata per muoverci nel buio ma senza andare a sbattere no allora io volevo chiedere come sempre se qualcuno ha qualche domanda qualche curiosità perché il fatto di avere gli autori le voci qui con noi è sempre una cosa bella e quindi magari qualcuno ha davvero qualcosa da chiedere questo si chiama il momento brutto eh sì è sempre il momento brutto però mi sembra anche sempre doveroso farlo perché ci sono poi alcune occasioni in cui qualcuno poi una domanda qualcosa la fa quindi io mi sento sempre di chiedere ma visto che non vedo nessun movimento particolare volevo dire invece che questa sera la libreria non poteva essere qua perciò i libri sono qui e se qualcuno volesse parlare con Dario farsi firmare il libro prendere una copia o se la avesse già e se la vuole far firmare può venire qua tranquillamente e rimaniamo qui qualche minuto io allora ringrazio tutte le persone ringrazio Palazzo Ducale Dario grazie a voi grazie a voi io io entro entro da questo momento in una fase di tre o quattro giorni in cui mi dispero pensando a cosa ho detto no è così chiedo a tutti ma si capiva qualcosa no perché vi lascio con questo aneddoto nel libro su mio padre c'è mio padre al centro della scena io come ci sono anche come personaggio ma abbastanza discosto fino a un certo punto no mia madre che era altrettanto importante in quella vicenda c'è poco allora mi hanno chiesto ma come mai gli altri non ci sono e non ci sono perché era indirizzato come se fosse un dialogo fatto con lui per cui gli altri sono di sfongo ma per dare il giusto peso a mia madre e concludere così la trasmissione e che riguarda anche il mio stile allora mia madre tutte le volte che facevo un libro mi diceva ma di nuovo non si capisce niente di quello che hai scritto eppure dicono che sei uno scrittore abbastanza bravo però non si capisce niente i genitori sono sempre d'aiuto a scuola andavi bene in italiano poi adesso che lo fai nei libri veramente non si capisce è difficile perché perché non ti decidi a fare una cosa che si capisca a me poi andavi in giro e gli chiede alla signora cosa fa il suo figlio e mio figlio fa lo scrittore ma non per tutti e quindi con questo va bene grazie 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 mille grazie grazie cari grazie